Benvenute e benvenuti, oggi siamo qui per commentare alcune peculiarità, diciamo così, del film Napoleon di Ridley Scott, era un film sul quale molti di noi nutrivano grandi aspettative, anche perché Ridley Scott, come dirò alla fine di questo video, aveva già curato un film ambientato nel Settecento, anzi all'inizio dell'Ottocento, che parlava delle guerre napoleoniche. Napoleone era solo sullo sfondo, però i protagonisti ci narravano una storia diversa. In questo film, quindi, si pensava che Ridley Scott ritornasse sulla figura di Napoleone per riscoprire di nuovo un mondo del passato, come lui ha saputo fare in altri film, dando anche quel tocco di cinematografia, insomma, quel tocco di spettacolarità. Poi l'attore era Phoenix, che è un attore molto, molto, molto quotato ad Hollywood, che ci ha regalato delle interpretazioni che non ci dimenticheremo, non so, pensate a Joker, eccetera. E invece questo Napoleone mi ha lasciato proprio deluso, non posso usare mezzi termini, non è neanche un bel film, oltre ad avere delle inesattezze storiche, non è neanche un bel film. La scena iniziale è discutibile. Napoleone non era presente nel momento in cui venne eseguita la condanna capitale ai danni della regina Maria Antonietta. Si tratta comunque di un film. L'assedio di Tolone, nel quale Napoleone sottrae il porto agli inglesi, è bella. In pratica, secondo la scelta di Ridley Scott, Napoleone non mostra le sue capacità mediante la campagna d'Italia, che invece storicamente fu quella che lo rese grande, ma attraverso l'assedio di Tolone. E ci sta, insomma, queste navi che scoppiano e si infiammano davanti alle mura della città, sono forse meglio delle battaglie nella piatta pianura padana. Poi, dopo aver mostrato la repressione della rivolta del 1795, si passa direttamente all'Egitto. La campagna d'Italia viene nominata a un passant dalla voce fuoricampo di Napoleone, che sta leggendo una lettera a Giuseppina. È un vero peccato, perché la carriera di Napoleone, i suoi successi, insomma, si debbono anche alla campagna d'Italia, che è stata un'operazione militare di successo e quindi assolutamente decisiva per la fama di Napoleone. Ridley Scott aggiunge, per dare un po' di colore rosa e di commedia romantica, la scena in cui Napoleone apprende del tradimento di Giuseppina da un suo ufficiale. Ecco spiegato il motivo del suo ritorno in Francia, non la disfatta navale di Aboukir, non il fatto che la sua flotta sia stata crivellata di cannonate dagli inglesi. La ragione del rientro di Napoleone in Francia sono le corna. A qualcuno forse potrà piacere questa trovata, ma a me certamente non convince e mi annoia la litigata da sit-comedy fra i due sposi di Tigarelli. Dopo una delle ennesime bagarre coniugali si passa direttamente alla cerimonia dell'incoronazione imperiale, senza soluzioni di continuità. La chiesa di Notre-Dame e gli invitati sono ricostruiti con gli stessi colori e gli stessi abiti che compaiono nei dipinti dell'epoca. Dopo l'annuncio del divorzio, però, l'imperatore dei francesi e Giuseppina perdono subito la loro eraticità perché si lanciano il cibo dai due estremi della tavola da pranzo. Quindi un momento, una scena epica con i colori di un dipinto dell'Ottocento, poi subito dopo si ritorna, sempre senza soluzione di continuità, a queste sit-com familiari. Comunque è una scelta della regia. Poi c'è un altro stacco di montaggio che non mi è piaciuto. Si vedono di colpo i francesi nella neve che attendono lo scontro con i russi e gli austriaci ad Austerlitz e la campagna austriaca sembra uscita da una scena di Game of Thrones. La campagna è completamente ricoperta di neve. A parte questo, che comunque rende suggestiva l'ambientazione, la battaglia non è male. Ci sono decine e decine di comparsi in movimento, ma l'esercito della terza coalizione non è annegato nel ghiaccio come si vede nel film. Infine, dopo aver stretto la pace a Tilsit, si celebra in fretta e furia il matrimonio con l'arciduchessa d'Austria e pochi secondi dopo appare Napoleone con un marmocchio in braccio. Poi Maria Luisa sparisce e come per magia siamo proiettati nella campagna di Russia ed assistiamo alla battaglia di Borodino. La guerra in Spagna neppure viene menzionata. Si continua con la Russia, con questi due cosacchi ninja che attaccano con due pugnali corti francesi caduti da cavallo. Insomma, la spettacolarizzazione è quello che conta. Poi si passa a Fontainebleau, all'esilio sull'isola d'Elba, che viene narrato in poche battute. Della battaglia di Lipsia, che porta a quell'esilio, nulla. Ma questo ci può anche stare, visto che avevano appena fatto vedere tre scene di battaglia di fila nella campagna di Russia, e lo spettatore adesso ha bisogno di vedere altro. In compenso, è veramente spettacolare Waterloo. Il film si conclude con il viaggio del veliero inglese che trasporta Napoleone a Sant'Elena. Altri personaggi storici? Praticamente non ci sono altri personaggi se non sullo sfondo e abbastanza sbiaditi. Però abbiamo Robespierre all'inizio del film, quando si vede ormai accerchiato prova a spararsi in bocca, ma il colpo non va a segno ed ottiene solo l'effetto di fargli un gran buco nella mascella. Questa è l'interpretazione più comune e secondo me è preferibile a quella del colpo partito accidentalmente o addirittura a quella di un disperato tentativo di farsi largo a colpi di rivoltella per cercare di fuggire alle guardie come nei peggiori spaghetti western. Robespierre sapeva che la sua stella era ormai caduta e semplicemente voleva evitare l'umiliazione della ghigliottina. Giuseppina è l'altro personaggio di cui vorrei dire qualche cosa anche perché è ogni presente nel film e Giuseppina si lamenta dei tradimenti del primo marito con Napoleone e il visconte Alessandro effettivamente l'aveva tradita moltissime volte, era un libertino impenitente. Poi quando si sposa viene sottolineato dal funzionario che celebra le nozze che era nata a Martinica ed anche questo è storicamente vero, l'attrice che interpreta la bella crioglia però è Vanessa Kirby ed è un'attrice nata a Wimbledon e di esotico non ha nulla, non si capisce che viene dalla Martinica. L'ammiraglio Nelson non pervenuto, non si parla mai di questo ammiraglio Nelson che invece è l'autore della vittoria contro Napoleone a Trafalgar e nella rada di Abukir. Di queste due battaglie però non si parla. L'altro grande inglese assente è il duca di Wellington. Il duca di Wellington parla per qualche secondo solo alla fine della pellicola per pronunciare le parole non mi bagno mai se posso evitarlo oppure avanti avanti non lasciate che si riuniscano e così è passato alla storia in questo film. Le altre amanti di Napoleone fra cui la celebre polacca Maria Valesa che era considerata la più bella di tutte le donne avute da Napoleone nel film non compare e nessuna delle altre amanti. Quasi nessuno dei marescialli di Napoleone viene nominato esplicitamente eppure gli ufficiali al fianco dell'imperatore sono stati importanti. Insomma Napoleon per me bocciato. Se cercate qualcosa sulle guerre napoleoniche di Ridley Scott molto meglio I duellanti. Quello sì che era un gran bel film con una storia da raccontare. Dopo Waterloo per i due protagonisti la guerra personale non è ancora conclusa ed eccoli che si sfidano nella scena che scorre proprio alle mie spalle. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.